Il mio fratellone. Guarda dove siamo, ancora nel medioevo. Perché non te ne sei mai andato? Prima sei andata la mamma, poi te ne sei andato tu. È molto bella. Comunque guarda che alla fine si era un po' addolcito, eh. Quando vedi Guido, per favore, digli che è una merda. Oh, ci sono ancora le regole del nostro viaggio. Ma ci sono ancora i motorini. Oh, sveglia! Tu vorresti portare il babbo fino a Cervia, il motorino. Vado a sparpagliare il babbo. Oltre, vi fermate e ci vediamo dentro, eh. No, non credono. Te lo giuro, non l'ho mai visto, ma ce l'ho. Cosa? Un figlio. Non ti sei mai preso una responsabilità in vita tua, mai. Tutta la tua vita è stata solo paura. No, no, faccio. Mi... Ma porca troia. Ma anche tu sei fuggito da lui, ma alla fine hai abbandonato me. Ma qualcuno ha questa vita da zombie! Una idea. Di domanda in otto anni, è che vorrei proprio qualche risposta. Vai, 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 vai! Mi prendo, mi manco! Avete qualche bagaglio? No. Mi spiace, portiamo solo le cenere di nostro padre e tanta amarezza. Portiamo noi stessi. Logico sì, è logico. Ah! Sì! Sì!